ciao eccoci arrivati eccoci tornati in diretta sul canale benvenuti sul canale youtube di associazione culturale maggiolina fatemi guardare attorno per vedere se è tutto a posto visto che come dicevo questa sera ci sono delle novità dalla mia parte si è tutto a posto quindi rinnovo il benvenuto grazie infinite per essere qui anche questo martedì 10 settembre questo è il canale youtube as maggiolina che è l'abbreviazione di associazione culturale maggiolina io sono daniele castelletti per chi ancora non mi conosca e questo è un canale di informatica facile dove puoi trovare corsi di computer video per quanto riguarda l'argomento informatico ci auguriamo di facile comprensione bene sapete già ragazzi che è cominciata per questa stagione 2019 2020 quindi anche questo atto questo autunno il corso di computer per principianti per cui abbiamo tutte le settimane un video di informatica di base siamo arrivati al numero 2 che è uscito lunedì scorso che è questo che troviamo qui alle mie spalle intanto ringrazio augusto grazie augusto per l'uso della super chat che per noi è di vitale importanza grazie infinite bene quindi dicevo una volta la settimana ora sul canale ci sarà un video di informatica di base questo con la copertina azzurra è inregistrata quindi un video breve tra virgolette abbastanza breve dove trattiamo l'argomento fondamentale intanto ringrazio anche enzo per l'uso della super chat grazie infinite enzo dicevo argomento fondamentale torniamo tutti gli anni sulle basi dell'uso del computer perché in definitiva quello che conta per sapere usare il computer sono queste cose le prime 10 20 lezioni di questo corso di computer base dovremmo saperle non dico a memoria ma le nozioni dovremmo proprio saperle bene tutto il resto viene leggendo guardandosi attorno facendo un po di esperienza per cui tutto il resto è discesa mi sento di dire bene e quest'anno questo da questo autunno il corso base è in due versioni la versione azzurra dicevamo quella registrata esce un giorno della settimana questa settimana è uscita il lunedì la settimana scorsa è uscita il mercoledì poi magari riusciremo a dargli un giorno fisso ma comunque un video a settimana c'è mentre invece tutti i giovedì quindi il giovedì pomeriggio alle 16 facciamo la stessa lezione ma in versione live per cui ci ritroviamo in diretta come in questo momento solo che di giovedì pomeriggio così diamo la possibilità anche a chi solitamente non c'è in orario serale dato che ormai sono anni che facciamo la diretta in orario serale ora ne facciamo anche una al pomeriggio e in questo caso ci dedichiamo sempre al corso di computer base dove vedendoci in diretta e quindi potendo usufruire della super chat siamo in grado di approfondire l'argomento base ma anche di rispondere alle vostre domande e quindi capire un po' quello che vi sta interessando quello che non avete capito del corso base e riuscire a fare come quando siamo dal vivo di persone quindi ottenere un qualcosa di più quindi un doppio appuntamento ci sarà chi guarda solo uno chi guarda solo l'altro o chi vuole essere presente a tutti e due già giovedì scorso eravamo in tanti e mi ha fatto veramente molto piacere grazie a tutti quelli che c'erano grazie a chi ha voluto avvisare amici parenti per dire guarda che ci sono questi nuovi corsi perché mi ha fatto molto piacere allora ringrazio Icaro per l'uso della super chat grazie infinite Icaro e grazie Giulietta ciao Giulietta ci manchi alle conferenze del martedì sera ora la conferenza e lo dico per tutti quanti è al martedì sera martedì sera ore 21 e 30 per cui finita questa diretta ci prendiamo una pausa di 30 minuti e poi ci vediamo di nuovo in conferenza in conferenza riusciamo un po a vederci chiaramente ci vediamo di persona ci vediamo in video ci vediamo e ci parliamo in video riusciamo a risolvere quei problemi che magari via email non siamo riusciti a risolvere e sono molto interessanti per cui invito tutti gli amici di Maggiolina a partecipare a questa conferenza trovate il link in questa posizione eccola qua conferenza del martedì sera alle 21 e 30 bene quindi basta entrare nel sito amici di Maggiolina premere su conferenza e ci vediamo quindi ricapitoliamo un po gli appuntamenti del canale perché ormai mi stanno arrivando varie domande in tal senso allora intanto ringrazio Aldo grazie Aldo per l'uso della super chat grazie per la moderazione che fai della nostra super chat insieme a Michele grazie ad entrambi per questo bene dicevo allora ricapitoliamo gli appuntamenti del nostro canale in linea di massima tutti i giorni esce un nuovo video quindi dal lunedì al venerdì compresi c'è un nuovo video di informatica informatica di base ci sarà presto powerpoint ci sarà presto word ci sarà presto gimp in questo momento c'è google drive questo che è alle mie spalle e che è stato un video che ha raccolto molti consensi molto interesse e che approfondiamo nei prossimi per cui domani ci sarà un nuovo video su google drive quindi tutti i giorni un video tranne il sabato e la domenica e a volte il sabato e la domenica c'è qualcosa e quindi vi aspetto sul canale poi il martedì sera siamo qui come adesso dalle 20 alle 21 in videoconferenza quindi in in diretta più che videoconferenza proprio io trasmetto e voi siete qui che mi fate compagnia mi fate le domande e mi aiutate con la chat e nel ma nella diretta del martedì sera vorremmo dare un po di spazio alle vostre domande di qualsiasi genere e in primo luogo dare un approfondimento agli argomenti della settimana i video che sono usciti in precedenza che di solito sono quelli in questa posizione qua poi abbiamo la possibilità di approfondire alcuni aspetti in base anche alle domande che mi avete voluto inviare a info chiocciola associazione maggiolina punto it leggo tutte quante le domande cerco di rispondere a tutte qualcuna che magari ha bisogno di una risposta più approfondita o che c'è bisogno di vedere il vostro computer in quel caso mando un invito ad frequentare a venire in conferenza negli amici di maggiolina perché certe cose vanno vanno proprio viste poi il giovedì pomeriggio siamo in videoconferenza in ancora con questa videoconferenza siamo in diretta con la live del pomeriggio alle 16 per approfondire il corso base il martedì alle 21.30 conferenza finalmente su associazione culturale maggiorina bene spero di non aver fatto confusione perché un po un po mi sa di sì ok ragazzi quindi venendo noi di cosa parliamo questa sera questa sera torniamo a parlare approfondiamo in parte l'argomento account google vi siete accorti per chi ha visto il video questo su google drive che di nuovo per accedervi c'è bisogno dell'account google quindi tutti quanti giriamo attorno a questo account google ne abbiamo uno ne abbiamo due a volte anche senza volere ne abbiamo creati due e insomma c'è bisogno di essere in grado un po di gestire meglio questa cosa e ha molteplici aspetti quindi dedichiamoci un po di tempo per cercare di fare un uso corretto di questi account e anche se vogliamo chiamarlo col suo nome un uso responsabile e quindi vediamo un po questo discorso per cui ora prendo un altro browser internet dove andremo a lavorare sul mio account di prova per vedere alcuni aspetti che ci possono interessare e che ci dovrebbero interessare perché fanno parte dell'account grazie rino grazie infinite per l'uso della super chat quindi chiudo questo torno sul mio desktop eccomi qua e vado a prendere firefox un altro browser internet sul quale posso attivare un secondo account contemporaneamente a quello che invece sta trasmettendo la diretta che non posso disattivare altrimenti non vedrei più tutta la situazione in diretta quello che sta succedendo allora siamo qui l'account google abbiamo detto che per accedere ad un qualsiasi servizio di google bisogna essere registrati a google per cui il vostro telefonino oppure il computer eccetera vi invita ad accedere in questa posizione di solito c'è un accedi che serve per autenticarsi farsi riconoscere all'account google vediamo cosa dice giuseppe per capire se è una domanda inerente a questo discorso buonasera come mai non riesco ad accedere al sito di associazione maggiolina quando clicco su entra ora mi dà questo avviso the request url not found server allora non lo so dovrei vederlo vederlo dal vivo il discorso per entrare nel sito amici di maggiolina che in parte si riconduce a questo è questo il sito amici di maggiolina è questo www.associazione maggiolina.it questo è il sito ufficiale che si può andare a vedere racconta un pochino quello che facciamo se invece si vuole accedere al sito degli amici di maggiolina che è quello dove ci sono tutti i nostri contenuti video organizzati per argomento e quindi più facili da trovare nonché il link per le conferenze e altre iniziative l'indirizzo è diverso è associazione maggiolina.it slash barretta amici a questo punto si arriva in questa pagina gli amici di maggiolina e tutti quanti possono arrivare in questa pagina digitando associazione maggiolina.it slash amici poi l'indirizzo da sopra cambia per questioni tecniche e non ci interessa più l'importante è che noi l'abbiamo fatto giusto e siamo arrivati qua qui c'è l'accesso al sito maggiolina qui sotto c'è anche un video se vuoi farti un'idea di cosa troverai all'interno del sito puoi guardare questo video e questo video spiega un po' che cosa bisogna fare per avere accesso la cosa importante per avere accesso è la cosa importante per accedere è andare a premere su entra ora premo su entra ora e entrerò nel sito di amici di maggiolina provo ed eccomi qua sono arrivato nel sito degli amici di maggiolina però l'accesso al sito in questo caso è protetto nel senso che c'è una verifica dell'utente per capire se si è autenticato si è tesserato al sito di amici di maggiolina l'associazione maggiolina e questo riconoscimento avviene tramite l'account di google quindi torno fuori per capirci si può entrare nel sito amici di maggiolina se qui in alto a destra cioè se quando sono sulla pagina di google qui in alto a destra c'è il mio account se mi sono loggato e adesso appunto approfondiamo questo argomento per cui la domanda era proprio pertinente intanto ringrazio grazia per l'uso della super chat grazie infinite grazia per noi è importantissimo dicevo quindi devo essermi loggato perché l'accesso al sito degli amici di maggiolina è diciamo protetto dalla sicurezza di google quindi si può accedere solo se si è loggati con google e se si è comunicato a maggiolina il proprio account quindi per capirci se io vado qui sopra e lascio la freccia in quella posizione lì in piccolo esce la mia gmail in questo caso è quella di esempio è corso tablet5 chiocciolagmail.com bene se avete comunicato questo indirizzo a me tramite il sito qui dove c'è compila la richiesta della tessera ecco qua e qua alle mie spalle la richiesta della tessera è in questa posizione quindi compilando questo modulo ed inserendo il proprio account successivamente sarà possibile entrare al sito degli amici di maggiolina sempre poi non c'è un limite a questo se invece si accede con un account diverso perché magari io ho compilato il modulo ho fatto tutto e qui non c'è lo stesso indirizzo che io ho dato a maggiolina Google non ci riconosce e non ci fa entrare in definitiva per cui c'è un controllo di accesso grazie Orazia per le super chat grazie infinite che per noi sono importantissime bene quindi questo era il discorso dell'accesso e vi aspetto anzi ho l'occasione di dire che alcuni di voi hanno piacere a sostenerci con le super chat o anche in altri modi e di solito mi piace ringraziare tutti anche via email per chi mi scrive ad alcune persone non riesco a raggiungerle perché magari utilizzano un metodo e poi non c'è fornito un indirizzo email quindi mi trovo ragazzi che avrei alcune persone due questa settimana per capirci da ringraziare e dire grazie grazie infinite per l'uso della super chat che per noi per la super chat o per il sostegno che ci date in altro modo che per noi è di vitale importanza però non riesco a raggiungervi non ho un telefono, non ho un email quindi non sono in grado di dire grazie come meritereste e quindi vi invito dopo averci sostenuto a compilare il modulo di richiesta tessera in questo modo abbiamo un recapito per salutarci, per ringraziarvi e avete la possibilità di entrare nel sito Amici di Maggiolina se vi fa piacere per vedere i nostri video per seguirci più da vicino per partecipare alle conferenze per fare un po' come vorrete bene anche Orazia mi dice mi scuso per la super chat ma non mi funziona bene questo non è l'importo che avrei voluto inviare grazie Orazia lo stesso non sei la prima che mi dice questa sera questa cosa non so se ci sono stati dei cambiamenti quindi magari c'è qualche difficoltà in tal senso allora intanto torniamo su Google vediamo cosa dice Mickey Mix perché non usi un altro software per la gestione generale del live streaming lo usano moltissimo gli streamers allora Mickey Mix semplicemente perché non lo conosco quindi darò un'occhiata adesso grazie per avermelo indicato che per me è molto importante bene allora torniamo al focus della nostra serata abbiamo visto che abbiamo visto quindi a maggior ragione che il nostro account Google ci dà diverse opportunità ora di accedere al sito Amici di Maggiolina ma soprattutto di accedere a Gmail di accedere a tutti i servizi Google Google Photo domani parleremo nel video di Google Photo Google Drive in particolare domani vediamo come fare a trasferire le foto da Google Drive foto che non dovrebbero essere lì perché in Google Drive occupano posto a Google Photo luogo invece naturale di queste immagini e lo vediamo nel video di domani YouTube eccetera quindi il nostro account ci dà l'accesso a tantissime informazioni grazie Renzo per l'uso della Super Chat grazie infinite quindi per noi è importante farne un uso responsabile farne un uso responsabile cosa significa? primo scriversi la password perché se io non mi scrivo la password poi non riesco ad entrare e poi mi arrabbio mi dà fastidio ci sono dei disguidi qualcosa non funziona è vero che ne posso sempre creare un altro gratuitamente però tutte le cose che ho dentro questo rimangono in questo e quindi è un problema questa cosa quindi il primo passo di un uso responsabile è scriversi la password da qualche parte scriversela bene esattamente come va scritta maiuscole, minuscole, trattini, chiocciole e quant'altro e sarebbe bene scriversi anche l'account cioè annotarsi sia quello che esce in quella posizione lì quindi nel mio caso è corso-tablet5-gmail.com e sotto mi annoto la password questo è il primissimo passo dobbiamo averlo fatto tutti perché lo dobbiamo sapere altrimenti non si riesce a entrare nell'account o altrimenti potrebbe essere difficile entrare nell'account bene vediamo cosa dice Massimiliano allora nel mio caso non ho compilato il modulo di richiesta tessera perché mi hai inviato il link via email esatto perché tu Massimiliano per quanto riguarda l'accesso ad Amici Maggiolina mi hai scritto in privato e quindi ho provveduto comunque a fornirti l'accesso però per noi è importante per chi non sente la paura di questioni di privacy per chi non ha problemi a compilare il modulo per noi è importante che il modulo sia compilato perché l'associazione deve adempiere alla certificazione dei suoi iscritti e quindi per noi è importante avere il registro perfettamente compilato bene e quindi fin qua ci siamo ok e quindi mi stavo guardando Sergio cosa mi scriveva in chat e quindi dicevamo il nostro account deve essere utilizzato in maniera responsabile prima cosa è dicevamo segnarsi il nome quindi il nome dell'account e la password perché è importantissimo questo ci evita un sacco di problemi poi per cercare di recuperarlo dentro il nostro account accumuliamo foto email documenti vari sempre più cose sempre più cose tante volte anche senza accorgercene perché lo utilizziamo col computer e lo utilizziamo anche con il telefonino per cui le altre due cose di un uso responsabile che dovremmo fare sarebbe assicurarci che non venga violato cioè riuscire a garantirci la massima sicurezza nell'accesso possiamo accedervi solo noi quindi solo in quel modo solo io posso entrare nel mio account perché poi ci sono un sacco di informazioni personali lasciamo stare che magari uno dica ma non mi interessa niente a me di quello che c'è dentro tanto è in realtà invece quando accede qualcun altro al nostro account o ce lo portano via e io ho conosciuto persone a cui è capitato o comunque persone a cui persone a cui persone scusate che non riescono più ad accedervi più che magari gli sia stato portato via ed è veramente un disagio quindi preoccupiamocene prima abbiamo segnato la password ma accertiamoci anche che nessun altro possa entrare al nostro account in maniera fraudolenta e poi c'è un altro passo ancora che dovremmo fare per un uso responsabile del nostro account e vedremo di cosa si tratta bene vedo che Lella dice si blocca a me pare di essere a posto con la linea quindi di avere tutto quanto a posto anche nei miei monitor prova a verificare la tua linea telefonica Lella o dalla rotella quindi dallo schermo dove sto parlando sotto c'è la rotella l'ingranaggio invece che la posizione auto premi sull'ingranaggio abbassa la risoluzione del video almeno a 480p in modo che dovrebbe essere più fluido la riproduzione del video nel caso sia un problema di linea telefonica bene allora dicevamo vogliamo accertarci che nessun altro possa entrare nel nostro account quindi possiamo fare un controllo di sicurezza possiamo andare a verificare come è lo stato di salute del nostro account per cui ora ci andiamo allora sono loggato sono entrato perché qui c'è il mio logo c'è la foto che ho messo io a volte c'è una lettera dell'alfabeto lettera dell'alfabeto che è l'iniziale del vostro nome o del vostro cognome e vado su questi quadratini che sono le app di google premo ed entro in account quindi premo su account eccomi qua e questa è la schermata di comando del mio account quindi qui dentro ci sono un po' tutte le cose che io posso andare a verificare e qui vi invito a guardarvi attorno fatelo con cautela e con attenzione nel senso che prima di andare a toccare varie cose dobbiamo sapere quello che facciamo per evitare appunto di rimanere fuori dal nostro account allora qui troviamo varie informazioni riguardo il nostro account mi interessava andare più che in queste informazioni fare un salto diretto alla voce sicurezza qui ci sono un sacco di cose che potremmo guardare ma vorrei andare in sicurezza quindi vado in questa voce qui dove c'è il lucchetto premo eccomi qua e una cosa importante da fare vabbè modificare la password ogni tanto vedete che nel mio caso qui è dal 2 ottobre 2018 che non la modifico questa è quella di prova per cui non mi interessa più di tanto ma una cosa importante da attivare è la verifica in due passaggi allora troviamo che c'è accedi con il telefono quindi io volendo potrei impostare il mio telefonino affinché dia l'ok d'accesso ed è una grande comodità questa ma importante è comunque che ci sia una verifica in due passaggi ora non posso usare quella del mio telefonino perché il mio telefonino sta trasmettendo la diretta e quindi non posso distrarlo da quel compito altrimenti la linea non sarebbe più così eccellente com'è in questo momento ma la verifica in due passaggi invece mi interessa cosa significa verifica in due passaggi significa che per accedere ad un account al mio c'è bisogno di sapere il nome dell'account questo qua corso tablet5 chiocciolagmail.com che posso tranquillamente dire a tutti è anche l'indirizzo della mia gmail quindi questo è pubblico lo posso pubblicizzare a chiunque intanto ringrazio Letizia per l'uso della super chat grazie ragazzi per noi è di vitale importanza questa cosa delle super chat grazie quindi il nome dell'account e la password queste due cose mi permettono di accedere il problema è che magari non garantiscono una sicurezza così forte perché il mio account è pubblico la mia password magari in qualche maniera qualcuno me la scopre e quindi se riescono ad inserire questi due dati entrano nel mio account cambiano la password e poi l'account non è più mio perché se io non ho la password nuova non so entrarci quindi un po' tutti i gestori di dati importanti quindi Google ma anche Facebook ma anche quant'altro utilizzano una verifica in due passaggi anche le poste italiane per esempio per cui dicono va bene tu mi metti account e password queste due cose ti fanno entrare ma per certe operazioni devi avere anche un terzo metodo di verifica devi un secondo metodo di verifica devi verificare devi autenticarti anche in un altro modo dobbiamo essere certi che sei tu e generalmente potrebbero identificare verificare la mia identità dal numero di telefono per cui noi dobbiamo aver comunicato a questi signori e a queste aziende il nostro numero di telefono di modo che riceviamo un sms sul cellulare di modo che il nostro telefono faccia apparire una schermata con scritto si sta tentando di accedere al tuo account sei tu sì e allora si entra no e allora quella persona che ha provato ad accedere al tuo account non entra e quindi questo ti garantisce la sicurezza del tuo account perché serve un ulteriore accredito un ulteriore metodo di verifica quindi noi adesso e questo è il discorso non tanto metodi con cui possiamo verificare la tua identità è un altro discorso che vedremo in un altro momento in questo momento stiamo prendendo in considerazione questa parte qui la verifica in due passaggi cioè oltre ad aver inserito nome utente ed account dobbiamo autenticarci con un altro sistema e ora andiamo a provare quindi voglio attivarla su questo account che per me è di prova non c'è questa verifica in due passaggi in tutti gli altri dove invece ci sono cose vere che mi servono foto o video di youtube eccetera sì questa verifica è attiva allora la attiviamo anche qua così vediamo come si fa siamo già tornati siamo già venuti qui in passato nei video di qualche anno fa in realtà però è utile tornarci e perché le persone ancora fanno fatica rendersi conto dell'utilità di questa cosa e perché ci sono continue novità e quindi potremmo trovarci in difficoltà e una cosa che mi sento di dire in questa finestra in queste cose è che bisogna avere capito il concetto e poi mantenere una flessibilità di mente ed essere appunto flessibili e di guardarsi attorno e leggere quando si è davanti alla situazione perché queste cose si evolvono continuamente proprio per garantire al massimo la nostra sicurezza ok andiamo in verifica non attiva quindi premo in questa posizione per attivare la verifica e mi sta dicendo protegge il tuo account con la verifica in due passaggi aggiungi un ulteriore livello di protezione inserisci la password e un codice di verifica univoco ricevuto sul telefono questo può essere un modo tieni alla larga i malintenzionati anche se qualcuno scopre la password non riuscirà ad accedere al tuo account per cui un'autenticazione bella sicura va bene facciamolo dico inizia e vediamo cosa accade allora innanzitutto mi dicono caro Rubino Felino che è il nome del mio account questo di prova innanzitutto vogliamo essere certi che sia tu cioè tu sei seduto davanti al computer l'account era inserito ma sai la password e nel mio caso è già scritta perché io in questo account ho memorizzato la password nel browser cosa che sarebbe da non fare sarebbe meglio saperla solo noi la password perché altrimenti chiunque si sieda davanti al mio computer perché ce l'ha perché mi prende il posto mentre io sono via o perché ha avuto modo di avere il mio computer magari in maniera non troppo ortodossa può fare questa cosa perché la password è già salvata e quindi non ha nessuna protezione quindi devo inserire la password se non l'ho salvata e poi dico avanti a questo punto loro mi riconoscono dicono ok sei tu allora verifica in due passaggi senti il secondo passaggio cioè dopo che tu hai messo nome account e password per farti riconoscerti per farti riconoscere noi potremmo utilizzare il tuo tablet o utilizzare uno dei tuoi telefoni dato che questo account corso tablet5 chiocciola gmail.com è presente sia sul tablet che su due e dei tuoi telefoni allora noi potremmo mandarti un messaggino dicendoti appunto guarda che stai accedendo all'account sei tu visto che questi telefoni questo tablet è tuo ce l'avrai a portata di mano e quindi solo tu in teoria puoi andare a schiacciare di sì anche perché il tablet il telefono deve avere lo schermo protetto dall'impronta digitale o da una password quindi non è che qualcuno ti prende il telefono e poi può andare a dire di sì perché il tuo telefono deve essere bloccato deve avere la protezione ma non vuoi usare i telefoni o smartphone eccetera perché non lo so non vuoi in questo caso io non voglio perché il mio telefono lo uso già per altre cose e quindi dico scelgo un'altra opzione quindi lasciamo stare i telefonini passiamo a un'altra opzione quindi scelgo un'altra opzione e vediamo l'altra opzione potrebbero essere un messaggio di testo o chiamata vocale che ricevo via sms da qualche parte un sms una telefonata e no perché in quel caso si mette sempre in ballo un telefono oppure posso usare un token di sicurezza o un dispositivo hardware di piccole dimensioni usato per accedere io ne ho uno questo a fare qua questo è un portachiavi e questo è un dispositivo è una chiavetta fisica che io infilo nel mio computer quindi fa da chiave d'accesso in definitiva in questo caso questi si comprano su internet nei negozi a me l'hanno regalato qualche tempo fa a Google quando mi hanno spiegato tutta questa cosa qui così io posso raccontarla a voi e quindi ce l'ho già in definitiva non sono obbligato ad avere questo in realtà io utilizzo il telefonino per la verifica in due passaggi perché è fantastico ce l'hai sempre e sei a posto ma ci sono anche altri sistemi ora vediamo il token poi vedremo se c'è qualche altro modo quindi dico token di sicurezza l'ho selezionato e ora lo devo configurare devo abbinare questa chiavetta vedete che qui c'è la foto che fa vedere un po' com'è in definitiva è una chiavetta con un bottone nel mio caso c'è un simbolo si vede? c'è un simbolo argentato con la chiave dove devo metterci sopra il dito per farmi riconoscere non rileva l'impronta digitale semplicemente equivale come al premere il pulsante per dire riconoscimi sono qua intanto mi vedete guardarmi attorno perché guardo la chat per rendermi conto di quello che stiamo dicendo vediamo cosa dice Arancina però ti arriva sempre il messaggio che ti avverte che qualcuno è entrato giusto? ecco Arancina dice una cosa interessante sì in linea di massima ti arriva un messaggio che ti dice qualcuno è entrato nel tuo account però un po' tardi perché qualcuno è entrato nel tuo account se quel qualcuno è entrato con con cognizione di causa cioè se entra per insomma non solo guardare le tue cose ma per impossessarsi del tuo account o per scaricare delle cose entra cambia la password e tu anche se sei stato avvisato resti fuori e quindi l'avviso sì ti dice che magari un familiare ha preso in mano il tuo telefonino nel tuo computer è entrato e quindi tu ti rendi conto che qualcuno è entrato però non è che ti protegga tantissimo per la sicurezza del tuo account quindi la verifica in due passaggi sarebbe auspicabile da configurare ora può sembrare complicato in realtà no è una complicanza in più sì perché è un passaggio in più che dobbiamo fare dobbiamo avere questa chiavetta dobbiamo avere il telefonino eccetera però se l'account è quello personale dove ci sono le foto dove ci sono le email dove ci sono i contatti delle email quindi più che mi leggano le email a me non importa di quello che c'è scritto nelle email ma interessa magari che non disturbino i miei amici quindi tutti i contatti chi scrive a me o le persone a cui scrivo io con email truffa eccetera per cui quando è ora ci interessa voglio ringraziare Giovanna per l'uso della super chat grazie infinite Giovanna bene vediamo la super chat prendiamoci un attimo di calma in questa cosa allora Arancina dice ma a volte sono io quella che è entrata come mai mi avverte nonostante sia io perché il dispositivo col quale entri telefonino o computer eccetera non ti vede in faccia non sa chi sei quindi se tu entri con un dispositivo non solito cioè se tu che so hai cambiato telefono oppure stai usando un computer dell'ufficio che non avevi mai usato in precedenza Google si accorge che tu sei entrata hai digitato i codici giusti però non non hai mai usato quel computer lì o non eri mai stata in Spagna per esempio diceva come la Arancina si collega dalla Spagna strano strano questa cosa meglio che la avvisiamo quindi veniamo avvisati proprio per perché c'è un qualcosa di strano di anomalo in modo che noi ci si possa preoccupare di questo intanto ringrazio Giancarlo ciao Giancarlo grazie per l'uso della Super Chat e anche Giovanna grazie Giovanna per l'uso della Super Chat in questo caso è proprio la prevenzione di accesso rendere più difficile agli altri se non impossibile entrare quindi ora proseguiamo io sono qui ho questo token di sicurezza mi dici assicurati di avere il token che non sia collegato al computer ce l'ho in mano benissimo allora fai avanti guardavo se si vedeva l'avanti si non è coperto dalle mie spalle avanti inserisci il token di sicurezza nella porta USB del computer poi c'è questa finestra che copre comunque ho fatto un tempo a leggere che devo inserire questa cosa qui quindi metto il token nella porta USB del computer premo il pulsante e ora viene riconosciuto eccolo qua token di sicurezza registrato il token di sicurezza è stato registrato d'ora in poi potrai utilizzare per accedere con la verifica in due passaggi nome token di sicurezza lo chiamo blu tanto per perché magari potrei averne due o tre blu questa è la chiavetta blu e utilizziamo questa e poi dico fine e ora ho fatto ho attivato la verifica in due passaggi vediamo cosa dice Giovanna anche Giovanna dice qualcosa non funziona con la super chat avevo scritto un altro importo e siete già in tre a dirmelo più che scrivere l'importo provate a trascinare la linguetta che c'è sotto cioè quando voi fate la super chat sotto ci dovrebbe essere un pallino che va a scatti che passa dai 2 ai 5 ai 10 non so gli importi passa fa a scatti verso l'importo più alto e da un colore diverso questo dovrebbe essere il discorso ok allora noi abbiamo attivato la verifica in due passaggi la verifica in due passaggi è attiva dal 10 settembre 2019 il secondo passaggio è un token di sicurezza aggiunto adesso questo che ora posso togliere ecco qua l'ho tolto dal mio computer il mio token ci sono dei telefoni che hanno il token incorporato quindi ci sono addirittura dei telefoni che hanno un token di sicurezza incorporato potrebbe anche essere magari l'impronta digitale devo provare questa cosa ora non posso farlo perché siamo in diretta abbiamo visto questo token qua ma in futuro torneremo e vi farò vedere questa cosa qui del token di sicurezza incorporato al telefono eventualmente però io potrei anche non volere la mia la mia chiavetta potrei non voler comprare questa chiavetta qua e quindi usare il telefono o altre cose ma potrei anche dirmi ok ho comprato questa chiavetta ma se la perdo oppure me la sono dimenticata a casa sono partito per un viaggio e l'ho dimenticata a casa come faccio adesso a entrare in questa nel mio account che ho la chiavetta a casa non è che posso dire a qualcuno e dammela perché è rimasta a casa sono in giro in aereo magari e quindi potrei volere anche configurare altre funzioni questi sono altri secondi metodi di verifica di sicurezza quindi un altro modo cioè se non ho la chiavetta con me posso usare qualcosa d'altro ringrazio Gilberto per l'uso della super chat grazie infinite Gilberto grazie mille quindi potrei ricevere un messaggio di Google sul mio telefonino potrei installare una app Google Authenticator sul mio telefonino ed utilizzarla potrei ricevere un messaggio di testo vocale sul telefonino quindi basta cliccare configura per riconoscere per ricevere questa cosa oppure questi magari li proveremo a vedere in un altro momento questo il messaggio di Google e il messaggio di testo è semplicissimo quindi riuscirete a farlo tranquillamente senza problemi mentre invece Google Authenticator magari ci proviamo proviamo a farlo in un altro modo intanto ringrazio Luigi per l'uso della super chat grazie infinite Luigi importantissima per noi ma una cosa facile da usare per tutti sono i codici di backup in definitiva io potrei ricevere un tesserino con dei numeri e uno di quei numeri mi permette di accedere anche quando non ho la chiavetta o anche senza chiavetta quindi se voglio fare questa cosa qui vediamo cosa c'è scritto c'è scritto questo a passcode monouso allora questi passcode monouso stampabili ti consentono di eseguire l'accesso dal telefono quando non sei a casa ad esempio se sei in viaggio ok allora io dico configura e questi sono i codici di accesso per cui posso stampare scaricare questi codici e in futuro li posso usare per accedere quando ne ho usato uno quell'uno non funzionerà più e ne ho a disposizione degli altri quando li ho finiti posso ricevere nuovi codici e poi sono a posto perché si entra con codici nuovi quindi questo è abbastanza facile da fare poco pratico se vogliamo perché bisogna avere dietro questo foglietto bisogna salvarlo da qualche parte insomma bisogna organizzarsi però anche la chiavetta bisogna averla con sé quindi generalmente ora chiudo generalmente io ho sempre il doppio sistema di solito uso il telefono messaggino di google messaggio di google e non c'è nessun problema con quello però configuro anche i codici questi perché se mi rubano il telefono o se lo perdo non riesco a entrare e quindi utilizzo i codici che magari ho lasciato a casa in un cassetto da qualche parte quindi ho perso il telefono devo fare delle cose raggiungo un computer mi procuro quei codici riesco a entrare e lavorare e cambiare le password sistemare tutto quanto ok vabbè vediamo allora com'è questa verifica in due passaggi come si agisce sul momento dunque facciamo così io magari mi salvo i codici allora dove che abbiamo detto i codici ormai mostra i codici eccoli qua dunque salvo una schermata per poterli vedere in futuro vediamo come posso fare per salvare la schermata non so se si vede in diretta proviamo a farlo allora io vado su vado a cercare il cattura schermo eccolo qua cattura schermo dico nuovo seleziono i codici seleziono anche tutto quanto fatto e li salvo in una cartella del mio computer li salvo da cancellare perché io poi li cancellerò questi codici allora codici di prova salvati fatto chiudo tutto chiudo tutto e sono a posto allora chiudo tutto in definitiva vado fuori anche da qua chiudo il mio browser a posto ora vediamo come si accede al nostro account di google leggo un attimo la super chat la chat scusate allora Mattia ciao Daniele volevo farti una domanda su Linux è necessario l'installazione dei driver vabbè ti rispondo subito dipende cioè sì è necessaria l'installazione dei driver generalmente quando installi Linux riesci a riconoscere quasi tutti i driver da soli da solo ma quelli che non riesci a riconoscere perché l'oggetto funzioni la parte hardware funzioni ha bisogno di riconoscere e di installare il driver grazie Marco per l'uso della super chat grazie infinite bene chiuso a parentesi vediamo che ore sono sì facciamo in tempo siamo pronti ad utilizzare il nostro account allora vediamo di capirci io apro il mio Firefox e entro nel mio account in questo caso non ho avuto bisogno di niente sono già entrato perché sono già entrato in Firefox perché questo account era l'ultimo che avevo utilizzato nel mio computer e quindi questo computer nonostante io abbia configurato tutte le sicurezze e quant'altro e ho lasciato l'accesso aperto e quindi chiunque si siede davanti a questo computer entra me compreso per cui non è che li devo proteggere a tutti i costi però devo sapere che se l'account è inserito si entra nonostante tutte le sicurezze ah ok allora esco prima di chiudere vado sul mio account e dico esci perché sono pignolo e dico no no non voglio che entri nessuno nel mio account quindi nuovo giro chiudo tutto entro apro il mio Firefox dico accedi perché in questo momento se io andassi a vedere le foto non funziona niente perché non ho avuto accesso non potete neanche iscrivervi al canale se non c'è accedi quindi i mi piace grazie per i mi piace che avete voluto mettere e le iscrizioni al canale e relativa attivazione della campanella per ricevere i nostri video funziona solo se siamo loggati con il nostro account Google quindi premo accedi e ora mi devo autenticare Rubino Felino password già inserita dico avanti e in questo caso mi dice verifica la tua identità c'è bisogno della doppia autenticazione quindi io vado a inserire la mia il mio token nel computer vediamo se ci riesco ecco fatto ora sono entrato il token lo tolgo adesso tra un attimo sono entrato questa spunta è molto importante dice non chiedere più su questo computer se c'è la spunta su questo computer non verrà più chiesto il discorso dell'accesso e del token perché viene considerato affidabile e questa cosa mi permette di evitare di infilare la chiavetta tutte le volte da questo computer è il mio computer è in casa mia è in una stanza blindata magari quindi posso entrare senza preoccuparmi della verifica in due passaggi mentre tutti gli altri quindi anche diciamo persone che dovrebbero fare in maniera fraudolenta che non usano il mio computer ma hanno cartuito il mio account e la mia password a loro viene chiesto il token perché il computer non è affidabile perché si collega qualcuno dalla Spagna perché insomma non sono io perché non sto usando questo computer e neanche questa località dato che non facevo niente sono entrato direttamente e a questo punto il baffetto era attivo quindi questo computer è considerato affidabile vediamo questo browser più che questo computer è considerato affidabile vediamo se è così quindi allora esco adesso dico esci torno fuori ritorno un altro giorno apro il mio browser google il mio browser firefox dico accedi dico rubino felino la password è già inserita dico avanti e in questo momento non mi ha chiesto la password perché non mi ha chiesto il token perché questo browser è considerato affidabile perché dopo che ho messo il token ho lasciato accesa la spunta in questo caso l'ho lasciata accesa perché ho parlato troppo a lungo e lui si è stufato di aspettarmi quindi se io volessi che questo venga utilizzato tutte le volte su tutti i browser dovrei togliere la spunta adesso invece su questo computer non serve più questo può essere un vantaggio o non un vantaggio o non un vantaggio mi spiego meglio se io ho messo come secondo metodo di verifica il mio telefonino e basta solo quello e il telefonino l'ho perso quando devo venire sul computer per cambiare la password per vedere se lo ritrovo questo telefonino eccetera se io ho bisogno della verifica in due passaggi dal mio browser quindi se ho bisogno di avere in mano il telefonino e non ci riesco perché non ce l'ho beh l'ho perso e quindi non ce l'ho devo rifare la sim prendere un altro telefono eccetera e dopo sarò in grado di entrare quindi non è che non entro più posso rifaccio la sim compro un altro telefono metto i due insieme e ricevo il messaggio e vado avanti quindi si può fare ma se invece magari il telefono l'ho perso si è infilato sotto al divano se voglio provare a cercarlo tramite l'account di google e potessi entrare sarebbe una bella cosa quindi se io ho memorizzato il token o il telefono nel browser quindi questi entra semplicemente con la password è un vantaggio in questo caso perché ho perso il telefono che mi serviva per autenticarlo ma posso usare il mio google lo stesso se invece avessi bisogno del telefono sarebbe un problema viceversa il contro il rovescio di questa medaglia è che se qualcuno entra in casa mia e usa il mio computer o qualcuno entra in casa mia si prende sul mio computer e poi lo usa la casa sua non gli viene chiesto il token perché il computer questo browser è autenticato è autorizzato a entrare quindi è considerato sicuro per cui in quel caso è un problema e quindi questi sono i due aspetti vediamo cosa dice Marcel dice ma anche se sono due utenti bisogna chiudere per forza account browser no no non necessariamente i due si può passare da un utente all'altro quindi io chiudo sempre perché adesso stiamo vedendo questa cosa mi piace chiudere ma potrei passare da questo a questo in realtà non mi piace fare così perché voglio evitare che ci siano delle confusioni a volte la cosa non è chiara per cui generalmente io quando passo da uno all'altro esco dall'uno e entro nell'altro anche se non è necessario per forza di cose fare questa cosa bene allora Marco dice come si fa richiedere il token a semplicemente lo comperi su da qualche parte sul computer io direi Amazon vediamo scriviamo token vediamo token google vediamo se salta fuori qualcosa usare un token di sicurezza verifichendo i passaggi no facciamo così andiamo su Amazon token di sicurezza token di google da Amazon vediamo se lo vendono domande e risposte clienti Amazon trova maggiore info sull'uso di token per i servizi google allora facciamo acquisto token acquistare token eccolo qua acquistare token qua ci sono un sacco di altre cose però quindi qua no siamo siamo su altri su altri discorsi quindi quindi non sono in grado di aiutarvi in questo momento ma stiamo sbagliando semplicemente parola di ricerca vediamo acquistare token di sicurezza vediamo qui c'è scritto come qui c'è scritto acquistare anche vediamo requisiti recupera il token aggiungi token accedi al tuo token se hai un secondo passaggio e non lo so vediamo token di sicurezza comunque si comprano da qualche parte per cui guarderei sui siti sui siti soliti ecco qua acquistare token di sicurezza da google store ora lo vediamo allora vediamo cosa dice Aldo scusa Daniele come mai gli iscritti è da una settimana sono sempre a 42.000 e non si aggiorna perché Aldo youtube ha cambiato sistema non fa più vedere al pubblico il singolo iscritto che aumenta di volta in volta ma fa penso a step di 1000 alla volta o qualcosa in più io dalla mia parte vedo il numero mentre invece al pubblico vede un numero fisso 42.000 quando saranno 43 presumibilmente 43 eccetera insomma bisogna guardarsi attorno qua ora non era questo il discorso però si possono trovare questi token accessori ok comunque bisogna un attimo cercare non ho adesso visto dove si trovano direttamente quindi torniamo sulla casetta vediamo cosa dice la chat ecco benissimo Sergio dice Amazon 9,50 euro bravo Sergio Sorcina dice io con Yahoo Mail entro senza password ma con a scelta mio messaggio cellulare e un semplice ok infatti l'alternativa di questi token adesso è il nostro cellulare ce l'abbiamo sempre con noi e siamo e siamo a posto lo scopo era vedere il secondo livello di autenticazione e dice che è molto comodo Sere dice cercare dove comprare il token di sicurezza guarda come siete bravi allora dove comprare il token di sicurezza bene e qua già si già si vedono da Google si vedono già i prezzi e quant'altro brava Sere bravo Sergio bravi bravi tutti grazie mille Google Shop dice Marco perfetto grazie dell'aiuto ragazzi vediamo che ore sono ok siamo quasi in fondo quello che mi interessava vedere e dirvi era questo abbiamo preso visione del fatto che ora questo browser Google Chrome è diventato affidabile non ha più bisogno del token del token dell'autenticazione del cellulare quindi non restiamo focalizzati solo questo token non ha bisogno della verifica in due passaggi e questa cosa potrebbe piacermi o non piacermi nel senso potrei potrebbe essermi comodo ma potrei anche essermi pentito dire ad esempio in un ufficio dove vado spesso avevo lasciato il browser autenticato cioè lasciato il browser riconosciuto ma ora in quell'ufficio e quel computer non lo uso più vorrei toglierlo quindi mi piacerebbe togliere dall'elenco dei browser affidabili vari computer posso vedere quali sono i browser considerati affidabili in modo che io possa dire no ragazzi serve la doppia autenticazione certo allora accedo da qualche parte quindi devo poter entrare da un qualsiasi computer in questo caso dico accedi da questo qui dico avanti vado in tutte le applicazioni di google vado su account e da qualche parte ci sono gli account ci sono i dispositivi allora vado su sicurezza vediamo un po' se trovo i dispositivi allora eventi relativi alla sicurezza eccoli qua i tuoi dispositivi allora gestisco i dispositivi quindi in definitiva il mio il mio computer il mio diciamo account è considerato affidabile quando mi collego a questi dispositivi per cui windows un samsung galaxy un tablet de novo e un telefonino asus se io vado e esco da quel dispositivo poi quel dispositivo non è più riconosciuto e quindi c'è bisogno di nuovo dell'autenticazione ma c'era anche un'altra schermata vediamo un po' c'era questo è per i dispositivi c'era anche un'altra schermata sempre per questa cosa qui ma probabilmente riporta sempre alla stessa alla stessa posizione vediamo in home probabilmente c'era proteggiamo il tuo account da qua inizia i tuoi dispositivi è sempre lo stesso discorso eccoli qua i miei dispositivi posso decidere di togliere i vari dispositivi anche se sì questo qui è il discorso prosegui accedi dal tuo google va bene questo era il controllo con il controllo a doppia la doppia autenticazione che è fatto da molte da molte aziende ormai facebook compreso allora io per questo account vado a toglierlo per facilitarmi la vita per cui la verifica in due passaggi premo e vabbè devo autenticarmi e poi la voglio rimuovere la disattivo disattiva disattiva ed ecco fatto ora la verifica in due passaggi non è più attiva e quindi io sono libero su questa cosa allora mi rendo conto che queste cose qui fanno sempre un po' fatica cioè nel senso si fa sempre un po' fatica a entrare nell'ottica di queste cose e nelle autenticazioni eccetera perché è la cosa che fa impazzire tutti quanti però servono quindi restiamo concentrati su questo concetto nome account e password ci servono per forza ormai quasi tutti la pubblica amministrazione quindi poste fascicolo sanitario e quant'altro ci chiedono una verifica in due passaggi generalmente la verifica in due passaggi è attivata dal nostro telefonino quindi con ad esempio le poste ha il codice QR da inquadrare o il post ID anche Google eccetera hanno il telefonino come fonte principale questo e le banche pure questo ci garantisce la possibilità di essere riconosciuti in maniera più sicura e bisogna di volta in volta adeguarsi alle varie procedure bisogna leggere e guardarsi attorno per cercare di capire come funziona vediamo cosa dice Romolo sono leggermente in ritardo saluto saluto tutti ciao Romolo grazie grazie del tuo saluto ci fa molto piacere bene ragazzi direi che per questa sera siamo arrivati alla fine vi ricordo quindi il video di domani dove parliamo di Google Drive di come spostare le foto da Drive a Google Foto perché farlo e soprattutto come fare senza fare troppa fatica e vi ricordo tutti i giorni il video sul canale giovedì pomeriggio alle 16 parleremo di corso di computer base e poi ci rivediamo sempre in diretta martedì prossimo tra mezz'ora per gli amici di Maggiolina che vogliono partecipare la conferenza premendo direttamente su questo pulsante di conferenza ci vediamo martedì prossimo grazie infiniti a tutti ciao vediamo ora se riesco a spegnere tutto sì da qua pulsanti nuovi per me fatto ciao ciao